gentili telespettatori buona giornata da milano l'ex direttore dell'espresso viene pagato secondo indiscrezioni con un contratto da 50 mila euro al mese 50 mila euro al mese quindi se facendo un calcolo scemo sono 600 mila euro all'anno poi magari sono alcuni mesi che non lavora poverino chissà come farà però insomma il problema è che è un'azienda statale perché se fosse un'azienda privata facciano quello che gli pare ma è un'azienda pubblica che viene pagata con i soldi del dei contribuenti con i soldi delle tasse ci sono in rai non so quanti giornalisti che prendono di media 5.000 euro al mese adesso vediamo se 13.000 giornalisti 13.000 dipendenti 1760 giornalisti i giornalisti in totale compresi quelli delle sedi distaccati sono 1858 di cui 1645 con un contratto a tempo indeterminato e 213 con un contratto a tempo determinato 1858 giornalisti alla faccia del bicarbonato allora io avevo sentito che un giornalista in rai prende più o meno 5.000 euro al mese 5.000 per 1858 sto facendo un calcolo così molto molto a spanne si parla di 9 milioni 9 milioni 290 mila euro al mese in giornalisti volete che avranno anche la tredicesima moltiplichiamo per 113 sono 121 milioni all'anno per pagare 1800 e passa giornalisti rai mi piacerebbe sapere quanti giornalisti a mediaset se facciamo se facciamo questa 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 domanda in mediaset ci sono nelle differenti testate circa 400 giornalisti 400 giornalisti 1850 e qualcosa 4 8 12 16 e un'altra metà c'è il rai ci sono quattro volte e mezzo di giornalisti che ci sono in mediaset mediaset ha tre reti la rai ne ha tre principali poi hanno tutte quelli on demand on the on the vai che che fai ecco ci sono poi tutte le varie reti 400 a 1858 qui si vede il carrozzone statale parcheggio per amici e amici degli amici e azienda privata che deve generare fatturato e non deve regalare niente a nessuno si comincia a vedere la differenza tra mediaset che straguadagna e ha solo le pubblicità e il carrozzone che ha il canone gli aiuti di stato e le pubblicità e arriva malapena alla pali e certo deve mantenere un carrozzone e qui per 13 mila dipendenti quanti dipendenti a mediaset vediamo se lo trovo sto facendo una veloce domanda quanti dipendenti a mediaset 4.990 dipendenti ultimo dato al 2021 e la rai a oltre 13 mila dipendenti è chiaro il fatto il carrozzone che paghiamo tutti noi bene andiamo avanti il carrozzone e con il carrozzone prende i soldi degli italiani e fa il contratto a questo giornalista esterno da 50 mila euro al mese con 1848 giornalisti chiamano un giornalista esterno i giornalisti rai dicono siamo stati scavalcati da un collega esterno all'emittente come dire cacchio cacchio siamo in 1848 che tutti vorremmo diventare i presentatori televisivi e mi chiamate l'esterno che vi fa la striscia giornaliera con un impronta assolutamente di sinistra e poi mi dico ma questo governo dei migliori dove c'è dentro anche capitan salvini e il cavaliere berlusconi e comanda e comanda la sinistra e beh caro salvini politicamente il tuo valore è veramente molto molto basso basso prendere un giornalista esterno e pagarlo 50 mila euro al mese è un aggravio di costi per l'azienda per il carrozzone che già non fa quadrare i conti il paventato dice la lega il paventato aumento del canone rai servirà per sostenere l'ingaggio spropositato di marco da milano domanda polemicamente la lega in una nota firmata dai senatori leghisti componenti della vigilanza rai si legge non si spiega altrimenti l'incoerenza dell'amministratore delegato fuertes che in commissione definiva l'aumento del canone a misura consona e auspicabile per sostenere le casse di viale mazzini ma intanto scegli di strapagare un giornalista esterno invece di valorizzare risorse interne all'azienda ma volete che con 1848 giornalisti non c'è un giornalista che può fare la strisciolina da 10 minuti al giorno gli esponenti del partito di matteo salvini inoltre hanno definito assolutamente inconcepibile la scelta della rai dicono in questo periodo di difficoltà per i cittadini l'aumento del canone rai sarebbe certamente un ulteriore aggravio e motivarlo per la volontà testarda di assumere da milano sarebbe un vero e proprio schiaffo prosegue la lega annunciando interpellanza in parlamento sul tema c'è anche la nota di fratelli d'italia che ha promesso un'interrogazione in vigilanza contestando all'azienda la decisione di arruolare da milano dice com'è possibile che con una platea di 2000 giornalisti che lavorano in rai sia stato necessario attingere ad esterni lamentava proprio il partito di giorgia meloni il carrozzone i carrozzoni statali vedi all'italia fallita vedi ilva fallita vedi adesso poi hanno cambiato tutto ma le vecchie poste italiane ferrovie dello stato erano un disastro poi privatizzate ci si sono riprese ma ai tempi erano altri due carrozzoni da far venire i brividi rimane questo carrozzone della rai ma vogliamo veramente mettere mani a sto a sto coso chiamiamola sto coso tanto fanno programmi spazzatura come mediaset mi invitano la gente solo per farla litigare fare odiasse allora perché strapagare sta gente non assumete più nessuno fate che le persone vadano in pensione e i dipendenti scendano almeno come quelli di mediaset che ne ha 5.000 voi 13.000 significa che ci sono 8.000 persone in più 8.000 8.000 8.000 arrivederci a tutti e grazie